Amici, hawaiani, concittadini e concittadine, io? Restatemi ascolto! Sbrozzo? Altro che... Max, io non ti conosco bene, ma mi sembri una brava persona. Sei evidentemente molto amato. Insomma, guarda quanta gente! Ad ogni modo, voglio augurarti buona fortuna. Mi dicono che te ne vai in Madagascar. Non ci sono mai stato, ma pare sia splendido. Quindi voglio augurarti buon viaggio, tanta salute e felicità. E che la sorte sia sempre dalla tua parte. Sì, bel discorso. Oh, e se qualcuno qui è interessato ad aprire un... un franchising della Crime Clean... Taglia! Ok, è tutto. Oh, e... L'haim! L'haim! Eh! Grazie! L'haim! Ano! Grazie! 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 Grazie.